L'anno prossimo la settantunesima di un'altra sezionale si farà a Varano-Melegari. Schieramento a posto, schieramento attenti, passaggio della stecca. Prima di tutto buon pomeriggio, ci tenevamo come varanesi di portare questa meravigliosa festa perché il gruppo degli Alpini merita questo ed altro, visto l'impegno che hanno messo sempre nella loro storia. Qualcosa che avevamo nell'animo già da diversi anni, io e il capogruppo Larini, ci sembrava giusto dopo 30 anni riportare la festa provinciale in quel di Varano. È una sfida che prendiamo con immenso piacere e quindi ci auguriamo di essere un pochino all'altezza, un pochino. Io in modo particolare ci tenevo a dare un segnale di riconoscimento a tutto quello che fanno. Grazie. Il gruppo è stato fondato nel 75, nel 94 hanno fatto l'inaugurazione della Baita e lì hanno fatto l'ultima sezionale che è stata fatta a Varano. Poi da allora sono passati 30 anni e non ne hanno più fatte. Noi abbiamo cercato di cogliere l'occasione e di portare a casa questa festa con la speranza di dare anche un segno di gratitudine a quelli che sono stati prima di noi. Adesso le idee sono tante e sono ancora un po' confuse. Stiamo cercando di metterle un po' in fila e poi faremo un programma un po' più sicuro. Sarà un bel impegno per tutto il gruppo di Varano. Ma allora siamo adesso in consiglio siamo in 5, 5 ragazzi più o meno tutti dai 45 ai 60 anni. Facciamo diverse attività anche con le scuole, facciamo qualche uscita tutti gli anni, li portiamo sui luoghi della grande guerra, facciamo una qualche raccolta fondi, abbiamo raccolto qualcosa anche per la Romagna, c'è anche la protezione civile. Riusciamo ad aiutare un po' anche se siamo diciamo in pochi, riusciamo a fare tante cose, un po' di impegno, un po' di sacrifici, ma si fa. Oltre all'amministrazione siamo già d'accordo con la Proloco di Varano, gli amici di Vianino che ci aiuteranno anche loro nell'allestimento, nelle feste, nei pranzi. Sicuramente coinvolgeremo anche Avis, le altre associazioni, la scuola l'abbiamo già contattata, faremo delle cose anche con la scuola, con i ragazzi. La scuola l'abbiamo già contattata, faremo delle cose anche con le scuola, con i ragazzi.